benvenuti amici di nerd station io sono il calo dosso e con questa recensione andiamo a scoprire il terzo numero di two noobs and one thousand gold il fumetto della no land comics scritto e sceneggiato da nux che stiamo seguendo dalla prima uscita infatti le prime due recensioni di questo bel fumetto fantasy comico le trovate sul nostro canale ma parliamo della terza uscita che vede sempre protagonisti memlock il nano e zoran lo spadaccino perché appunto le loro avventure proseguono e proseguono sempre alla ricerca di qualche spediente per tirare a campare e con il sogno ovviamente di arricchirsi in questo terzo albo dove la comicità è sempre sfrenata e l'azione non conosce limiti come non conosce logica il mondo fantasy dove vivono i due simpatici protagonisti questo terzo albo che si chiama i pirati di fiume che vede i nostri due protagonisti già dalla copertina in grossi pericoli contro i marmoriani che non sono i veri protagonisti ma diciamo sono anche dei coprotagonisti e proprio l'inizio ambientato a lilian vede zoran e memlock cercare di imbrogliare la popolazione locale infatti zoran si improvvisa un cacciatore di mostri e memlock nel fiume travestito appunto da marmoriano spaventa i locali zoran si inventa un pretesto un'arma magica che lui chiama marmorinator con non troppa fantasia e così alla fine finge insieme a memlock di aver sconfitto i terribili e fantomatici per noi perché nel nostro mondo non esistono marmoriani peccato che un marmoriano bello grosso invece si celava sul fondo del fiume irritato dal lancio del marmorinator nel fiume che altro non è che delle specie di pietre simili a caramelle frizzanti qualcosa che comunque dà un sacco di fastidio nell'acqua perché questo gigantesco mostro marino si sveglia e un po' simile a Cthulhu distrugge tutta la città in una scena che ricorda un po' quei film giapponesi e appunto la città di Lydian viene distrutta a quel punto loro vengono accolti dal nobile Raka che gli affida però un'altra missione non consapevoli che sono loro la causa di ogni guaio che vivono la loro missione questa volta è quella di di fermare i terribili pirati di fiume che si stanno arricchendo appunto assaltando ogni nave di Arta i pirati di fiume però non sono esattamente umani anzi sono delle creature da incubo soprattutto il loro capitano che si chiama Milleocchi bello sguardo e hanno dei poteri e hanno dei poteri da sogno hanno dei poteri fantastici tanto che ricordano i scontri che ogni tanto si vedono nei manga ebbene naturalmente non vi svelo le fasi più salienti vi lascio solamente immaginare che gran confusione che gran sfacelo combinano Milleocchi e Zoran e invece di salvare la situazione ovviamente la peggioreranno la nostra opinione su questa terza uscita della serie Two Nobs and One Thousand Gold è che comunque siamo di fronte ad una grande serie comica che ha il grande vantaggio di coniugare il fantasy e l'umorismo cosa che in pochi sono riusciti a fare con successo ma sono riusciti a fare con successo soprattutto nella narrativa non tanto nel fumetto per esempio nella narrativa vi basti citare Terry Pratchett scomparso da qualche anno purtroppo nel fumetto è più raro trovare questo connubio tra humor e fantasy i personaggi di Milleocchi e Zoran si sposano benissimo ricordano i loro espedienti quelli di Cicco la spalla comica di Zagor della Bonelli che in ogni numero si ritrova senza un soldo e cerca sempre di sfamarsi escogitando qualche imbroglio che naturalmente va a scatafascio fallisce miseramente e gli procura un sacco di guai questo tipo di umorismo tipico del fumetto ecco che coniuga ci sono tante citazioni per esempio i pirati che assomigliano ad alieni a creature infernali i mostri marini che ricordano le creature simili a Cthulhu e quindi alla Overcraft ci sono tante citazioni che vi potete divertire a scovare c'è tanta avventura c'è tanta comunicità e poi ci sono naturalmente tutti i canoni del fantasy più classico tant'è che Memelok in effetti è un nano e chi meglio di un nano può essere un personaggio comico i nani così testardi così sporchi così particolari in un mondo fantasy che di solito è pulito e aggraziato basti pensare agli elfi così aurei quasi perfetti quindi noi continuiamo a leggere con molta attenzione con molto desiderio di leggere anche i numeri futuri Two Nobs One Thousand Gold della Nolan Comics e continuiamo a consigliarvelo non perdetevelo per nessun motivo perché vi perdereste l'occasione di farvi quattro grasse grosse risate alla prossima con Nerd Station e tante altre recensioni seguitici sempre sui principali social Facebook Instagram e naturalmente commentate qui sotto se questa recensione vi è piaciuta e se vi è piaciuto l'albo della Nolan Comics iscriviti al nostro canale